Noi cerchiamo di dare tutto in ogni partita. Oggi purtroppo non siamo riusciti a fare gol. In ogni partita abbiamo l'opportunità di chiuderla e purtroppo anche oggi non siamo riusciti a portare più di un pareggio. Io cerco di dare 120 di me stesso in ogni partita, dando il massimo, far capire ai miei compagni che io ci sono, che non morerò fino all'ultimo, anche se perdiamo stiamo vincendo. Purtroppo è così, però io so che a livello personale non morerò fino alla fine e credo che anche ai miei compagni, anche se il momento è così, non andremo giù. Proviamo a dare il meglio di noi, i tifosi sono spettacolari, in ogni partita sono qui anche fuori casa, ci aiutano. Dobbiamo ringraziarli e chiedere a loro di stare con noi fino alla fine perché noi non moriremo di un centimetro.